Astronomia e astrologia. Astronomia e astrologia sono oggi chiaramente distinte l'una dall'altro. L'astronomia, dal greco astron più nomos, cioè astronomia, la legge delle stelle, è la scienza che si occupa dei corpi celesti. L'astrologia, dal greco astron più logos, cioè il significato delle stelle, invece ha come oggetto l'influsso delle stelle sugli eventi che accadono sulla Terra e in particolare sull'uomo. Oggi la prima, l'astronomia, è considerata una scienza vera e propria, mentre l'altra, l'astrologia, soltanto una pseudoscienza, cioè una scienza finta. Non era invece così nel Medioevo, quando entrambe non erano separate e l'astrologia era parte integrante dell'astronomia. In quest'epoca, nel Medioevo, l'astronomia, in questo senso largo comprendente anche l'astrologia, costituiva una delle sette arti liberali, cioè le materie che formavano l'insegnamento di base per poter poi accedere agli studi universitari. Nel Medioevo le stelle venivano osservate a occhio nudo, perché non erano ancora stati inventati né il cannocchiale né il telescopio. L'unico strumento astronomico allora esistente era l'astrolabio, tradotto letteralmente prendo le stelle, astrolabio. Con questo strumento era possibile localizzare o predire la posizione di corpi celesti come il Sole, la Luna, i pianeti e le stelle. Che cosa era l'astrolabio? L'astrolabio era formato da diverse parti. La base era un cerchio metallico, graduato, con un braccio ruotante fissato al centro. Poi c'era una lamina, cioè un sottile disco all'interno del cerchio, e infine una struttura ruotabile, la cosiddetta rete che si sovrapponeva alla lamina e indicava la posizione di particolari stelle fisse, solitamente tra 20 e 30. Uno dei maggiori astronomi e astrologi del Medioevo era Michele Scoto, uno scienziato di origine scozzese, attivo presso la corte di Federico II. Egli aveva studiato, fra l'altro, a Toledo, in Spagna, allora il centro della cultura spagnolo-araba. Conosceva l'ebraico e l'arabo e tradusse importanti opere scientifiche dall'arabo in latino. Michele Scoto è conosciuto per essere citato da Dante nel canto ventesimo dell'Inferno, nella Bolgia degli Indovini. Egli avrebbe infatti predetto che Federico II sarebbe morto in una località dal nome di un fiore e l'imperatore Suevo morì infatti nel 1250 a Castel Fiorentino, non lontano da Foggia. Michele Scoto compose un importante manuale di astronomia e astrologia intitolato Liber Introductorius, cioè una introduzione all'astronomia e astrologia, la quale, secondo Michele Scoto, era una sorta di superscienza, cioè superiore a tutte le scienze, all'eccezione soltanto della teologia, considerata nel Medioevo la scienza più importante in assoluto, perché era Dio che comandava tutto.